La settimana che porterà l'Arezzo al derby in programma sabato alle 18.30 con il Siena si è aperta alla nave con la gradita visita di Luca Tremolada. L'ex Amaranto, oggi alla Virtus Entella, approfittando del giorno libero concesso da Mr. Breda alla prima squadra Ligule, ha fatto tappa in Toscana per un saluto agli ex compagni e dirigenti. Ad accogliere Tremolada sono stati il direttore sportivo Gemmi, DG Riccioli, oltre al sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, con il quale Tremolada si è fermato alcuni minuti. Nella giornata di mercoledì Amaranto hanno svolto un solo allenamento al mattino, una seduta che ha impegnato Moscardelli e compagni per quasi oltre due ore sul campo del centro sportivo Arrezium, una prima parte incentrata sul lavoro atletico, a cui seguita una tattica. Con il gruppo anche giocatori che non hanno preso parte alla trasferta di Carrara, come Eugenio Durti, Zach Muscat e Giuseppe De Feudis. Il mediano Amaranto ha ripreso a lavorare sul campo dopo il problema all'adduttore, svolgendo un lavoro personalizzato seguito dal preparatore atletico Ducci. Intanto Sottili ha iniziato a provare movimenti e tattiche in previsione del derby, una partita per la quale tornerà a disposizione anche Sergio Sabatino, scontati due turni di squalifica. Da una parte ecco una squadra con il 3-5-2 utilizzato nei primi due turni dei sienesi e dall'altra una formazione con i dettami del 4-4-2. Domani allenamento nel pomeriggio alla nave alle 16.30, mentre venerdì la rifinitura sarà svolta sul mante erboso del comunale a porte chiuse. Ultimo allenamento questo prima del derby contro il Siena degli ex Panariello Mendicino e dell'Aretino Guerri.